ciao ciao a tutti popolo di twitch questa volta questa volta è proprio il caso di dire popolo di twitch questa è la mia diciamo non proprio prima live la seconda live di twitch ma la prima che abbia un senso perché questo video molto probabilmente lo ricaricherò su youtube quindi chi lo sta vedendo diciamo indifferita sicuramente molti di voi non avranno visto il blog che ho fatto andatolo a vedere in cui spiego perché mi sono trasferito su twitch la serie quindi deterra italica andrà andrà avanti su twitch un ringraziamento lo devo fare a tutti quelli che invece il video l'hanno visto e soprattutto a quelli che il video l'hanno visto e sono venuti su twitch da quando ho fatto ho fatto il video ben 13 di voi sono venuti su twitch quindi grazie a quei 13 perché significa che siete comunque affezionati a me e non e non ad altro insomma non alla deterra italica non ai trattori non a farming ma ma allo youtuber in carne e ossa quindi grazie veramente ragazzi ed è proprio per voi che oggi sono qui e sono qua nella speranza ecco che magari qualcuno venga a trovarmi so che twitch è una piattaforma che ha un decimo del pubblico di youtube quindi non si può pretendere più di tanto quindi chi si perde questa questa serie qua su twitch se la può comunque andare a rivedere su youtube perché comunque il video verrà ricaricato allora sono sulla deterra italica devo dirvi un po di novità rispetto all'ultimo video che avete visto su su youtube rispetto all'ultima puntata ovvero ho venduto tutta la roba che c'era dentro i silos quindi praticamente i silos sono svuotati e e col ricavato ci ho comprato questo piccolo john dir usato un 36 un 36 50 e l'ho pagato pure poco e 15 mila euro come vedete ci abbiamo ancora 118 mila euro quindi insomma è tempo è tempo di fare altre cosette insomma di 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 spendere i soldi in altre cose perché inutile che adesso mi metto a comprare 500 mila trattori e cose varie se prima non 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 facciamo altre cose un po più utili un po più varie tipo ad esempio le vacche poi inizia a fare vacche cose varie allora se come un po che non ci gioco proprio per motivi di tempo non mi ricordo la sul campo 2 scusate alla sul campo 2 seminato il frumento sul campo 21 seminato la soia questa no è colza ok seminato la colza sul campo 1 una mazza quindi sul campo 1 è coltivato e da e da seminare quindi ci semino il il frumentino allora vediamo un pochettino comunque ragazzi anche se sono da solo qua parlo cioè riesco a parlare anche da solo perché so che poi questa live andrà su youtube quindi per me è come se io stessi registrare stessi si dice stessi si stessi registrando un gameplay ma facendo questa cosa qua mi risparmio tutto l'editing e mi risparmio di ricaricarlo e cose varie l'unica cosa che mi dispiace di darvi una qualità di 480 e che poi mi sembra che una volta ricaricata su youtube diventa addirittura 360 però che dobbiamo fare se volete vederla a 480 dovete venire su twitch su twitch che così in diretta la potete vedere a 480 allora i semini ce l'ho mi pare che ce l'ho però per sicurezza ricarico e ci butto frumento pure stavolta in modo che il frumento su due campi e magari riesco a fare un po più paglia ripeto voglio fare le mucchette quindi è l'ideale per fa paglia costa cacchio decision mod praticamente è o dostanna è praticamente sempre notte non so perché è sempre notte cioè nel senso c'è sempre la nebbia ma non siamo in val padana qua siamo qua siamo in emilia in emilia romagna mi sembra in toscana questa mappa insomma non capisco perché qua sia sempre notte però vabbè ce lo facciamo stare che dobbiamo fare allora qui con me un'ora fa su 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 discord c'era pure andrea che stava giocando a raft non so se c'è più ci sono ci sono allora ciao andrea sono concentrato a sopravvivere vai vai io sono concentrato a parlare da solo quindi no però è bello perché praticamente dom è come se io stessa registra una puntata capito quindi non non di quarto per niente il numero di spettatori del fatto che io stia parlando da solo perché voi ragazzi date la possibilità no dico date la possibilità a un chiacchierone no un logoroico di parla e non se zitterà più quindi non non gli interessa sa che è arrivato qualcun altro si c'è qualcuno c'è qualcuno mi sento come la particella d'acqua sodio di come rada da quale o nico ciao nico ciao grande nico siamo in live su twitch e sarebbe bello che grazie sarebbe bello che tu mi dessi la visual così giusto per per far capire a twitch che c'è qualcuno su twitch perché ragazzi il problema non è solo da me il problema è proprio su twitch cioè non c'è nessuno a meno che non giochi a fortnite ma a me fortnite non mi piace e quindi continuerò giocheremo forte bella ragazzi nel prossimo episodio forte no dillo perché hai visto mai aumenta le visual solo che lo dici fortnite fortnite sto giocando caro nicola alla data ritalica sono su farming simulator 17 e c'è andrea a farmi compagnia su 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 disc su scusa su sì su disco però se come questo video verrà ricaricato su youtube ok cerchiamo diciamo più volte farmi no mi sono dimenticato di dirti una cosa l'altra volta volevo ricaricare anche la serie whip quella che ho quella che ho fatto ragazzi perché ho fatto anche una live su twitch dove facevo la serie whip no la serie web la preparazione alla serie web quindi sono andato a raccoglie un po di mele da solo è successo che il buon nicola agli è partita un po di musica in background quando sono andato a ricaricare il video youtube me l'ha censurato per copyright caro nicola per quei pochi secondi essi per quei pochi secondi il video è privato e ragazze no non lo so le dice per copyright quindi evitiamo qualsiasi tipo di di sound cioè facciamo finta addormentato bravo che siamo su youtube e soprattutto rimaniamo inerenti a farming così insomma chi guarda il video se gli parlano de raft non penso che gli interessa molto a proposito de raft appena detto che non parla de raft e sto parlando a proposito di raft ragazzi con andrea ma che visto che ha comprato raft inizieremo a fare anche delle live in multiplayer sempre qui su twitch e quindi ragazzi sempre canale twitch in descrizione oddio stavo per seminare un palo roberto se tu dici su twitch canale twitch in descrizione loro sono già su twitch no io parlo di quelli che stanno a guardare il video su youtube perché tu dai per scontato che adesso qualcuno sta guardando il video su twitch io esatto ma ma in realtà in realtà io parlo per quelli che vedranno la replica anche la replica forse la vedranno in tanti perché comunque youtube ricarica le live a meno che se tu non c'hai non sei un affiliato youtube twitch ti ricarica le live su youtube a 360 e per diventare affiliato ci vogliono a meno 50 follow e potevo anche farcela ai ragazzi perché su youtube avevo chiesto appunto su mille e quattro iscritti dico ti pare non rimedio 50 follow non rimediati 13 e devo pure ringrazio a dio quindi quindi va beh grazie grazie lo stesso ragazzi anzi grazie soprattutto a quei 13 che anche c'ho anche il nome come la serie tv cosa cos'è la serie tv 3 scusa non guardo serie tv sono una persona triste no scherzo ragazzi non guardo serie tv anche se non sono triste o forse sono triste per quelli che pensano che io sia triste ma sono più tristi di me perché dicono che sono triste non bisogna mai dire che sta in carta esatto sarà notato ragazzi la whip tra l'altro uscirà un pochino più tardi perché siamo solo io andrea ci dobbiamo organizzare meglio perché nicola e peru sono sotto esame chissà quanti di voi saranno sotto esame come nicola e peru nicola lancia un messaggio a a questi due spettatori che abbiamo che siamo uno io e un andrea un messaggio per gli esami e un e night bot un e night bot un messaggio per gli esami anch'io a ok alla manco night bot me sta più a seguire un messaggio per un messaggio per per gli esami diciamo allora grazie grazie a non posso dire sono in panico anch'io google google poi soprattutto se fa inglese dici google manco mi nonna lo dice più google uno perché è morta poverina ma uno perché insomma era era per di insomma no capito nel senso google insomma allora aspetta che qui ci abbiamo un nuovo iscritto italebano senza ano ma io non so se è nicola con un altro account ma visto il nome credo proprio di sì però grazie nicola perché a me i follow servono come il pane quindi quindi grazie con le credenziali continuo a fare profili esatto quindi grazie grazie perché è una cosa che serve ragazzi guardate nicola con le con le altre credenziali mi fa salire i follow grazie e voi invece che avete il canale magari io ho chiesto su youtube vi ho implorato e non ci siete venuti malda che siete delle sappiate che siete un po pessimi ecco no no nicola è sì nel senso buono è nel senso petto non c'è più o stava accanto a canzone ma dopo me vengono i copyright e ma se la canti tu no e non lo so non lo so non lo so non la canta la distorta improvvisala improvvisala io cambio la tonalità la canto così no 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 perché rileva le parole tu devi improvvisare la parola è tua no dannazione cantala in russo in russo non te la può oh drop d'oschi spad swarovski allora o burundi burundi la non mi pare molto lusso questo aspetta nico che io qui non riesco più a capito seminato non so allora da quando ho messo io non sto capendo cosa stai facendo stai facendo tutto a quadratini da quando si perché sto campo è fatto veramente a me a me a meloni non ho la politica a melo a matita a matita a matita allora vabbè basta così chi se ne frega ho seminato pure troppo non capisco ragazzi perché da quando ho messo da quando ho messo la sision porca sozzona è sempre notte sulla deterra italica da quando ho messo la si o il volante magari mi serve per guida da quando ho messo la sision è sempre notte non capisco perché ho sbagliato strada nico ok tu la vedrai tra un pochino sta manovra non la vedrai subito ovviamente grazie a tutti quelli che stanno seguendo in live questo ho sbagliato strada adesso guarda guarda che sei andato in mezzo ai campi ma che babbano sì ho sbagliato strada perché sto salutando un follow che mi sta seguendo che il talebano senza hanno grazie grazie nicola sai che appari anche sopra anche se doni io ti donerei volentieri no era per dire ho 30 centesimi io ho 36 anni allora che devo dire un attimo e se poi ti dono 30 centesimi non si può fare ho messo minimo un euro e dai e dai che sei pucci puccioso dai meno di euro vuoi donare che è ok che un centesimo un centesimo fanno però insomma tu i centesimi ascolta sono 30 io più di 30 non posso solo quello tu sei dolcissimo mi basta il tuo affetto allora andrei ho praticamente seminato adesso è il momento vediamo un po se gli vada a dana concimata già che dite la caglia ma l'ho manualmente a non a beh c'era già la concima perché c'è la concimata come cazzo fa e se c'è già una concimata non mi ricordo quello che ho fatto delle foto a ho interrato la shopper strove interrato la shopper strove ok 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 sono un pirletto si sono un pirletto che c'è di male ad essere un pirletto a che hai fatto salvo la partita salvo la partita vediamo come stanno gli animali qui ragazzi e senza tagli quindi di solito io lo taglio su farming e quando quando salvo la partita ma qui non lo posso fare allora fammi switch a su new holland che vado subito a data da mangiare gli animalini ci hanno bisogno di da mangiare gli animalini sa nichi davvero c'ho solo le pecorine poi tra l'altro allora do da mangiare pecorine raccolgo le ovine quante ne hai 90 quanto ne hai 90 ha fatto la battuta non so se senti quanto ma commosso cioè ma addirittura commosso allora tu mi propone vai a vedere vader che sta facendo grand theft auto 5 ma twitch è così anche anche twitch me lo dice no aspetta twitch è più infido di youtube perché youtube ti dà solo i video consigliati di quelli famosi twitch invece se tu stai a vedere un video di un altro pure a me me lo fa se tu stai a vedere un video di un altro ti dice vai a vedere questo che è più grande capito come fa andrea proprio infamone proprio allo stato vabbè speriamo che quando uno poi diventa partner non non succede più una cosa del genere cioè quando diventa affiliato vabbè che ci vuoi fare il dio denaro ragazzi fa questo e altro adesso io perché ho sganciato questa me lo spieghi perché ho sganciato questa io no spiegamelo spiegamelo perché ho sganciato no mi serve solo questa dovevo sganciare ok dovevo sganciare solo la paletta davanti da una prende una balla guardo perché sento parlare te no poi guardo il video e non capisco no è inutile non sei così dolce quando non guardi i miei video lo sto guardando il tuo video solo che non capisco niente parlare per un setto più andrea mi aspetto di vedere quello preso sei molto preso andrea porca miseria allora non lo facevo un giochino così teso ora praticamente vi ricordo tutti quelli che mi hanno detto robbie non c'è l'ho con te c'è l'ho con chi seguiva la serie ma canta che è successo quando mi è messa la pizza ma dai ma dai ok dicevo vi ricordo stefano werset ha scritto ma che fa su twitch signor robbie qualcuno ti segue stefanetto dovrebbe essere stefano jd il nostro sverzeletti che fa su twitch perché c'è scritto link eliminato carichetti che link hai messo stefanuccio stefano sto su twitch perché vorrei provare a rianimare anche il mio canale twitch caro stefano anzi metti il follow seguimi stefanetto allora che succede qua non mi ricordo più che doveva a ok volevo dire vi ricordate quando avevate detto che le balle di di erba sotto il capanno scomparivano so scomparse nonostante la si sono moda dico la la maschera per la si sono e se voglio capì perché le balle d'erba scompaiono le balle di fieno no ditemi voi il motivo non lo so so solo che dobbiamo andare a fa fieno andrea non ci so si sono il tuo stetti seguo già grazie ste grazie ste sei un amore se vuoi entrare su disco dio la mia stanza per te sempre aperta se no seguimi li grazie grazie allora devono affianagione poi comunque ripeto questa live verrà ricaricata su youtube ma io ste un po come fallello non c'ho proprio più tempo di mettermi a fall editing di tanti video quindi tanti gameplay li porto in live però per sponsorizzare il mio canale twitch li porto prima in live su twitch e poi li riporto su youtube diciamo li esporto così facciamo due piccioni con una fava no ho due fave con dubbi com'era due fave com'era vabbè comunque con quattro fa esatto così prendiamo due piccioni attaccati con una fava capito oddio che immagine oddio che immagino picchiare i piccioni con le con le fave guarda ste guarda che ciò diamo guarda che ciò ste stefano un amante del john deere guarda che che cosino bellino che ho comprato un 36 50 due piccioni con una fava bravo stefano ho preso questo jd piccolino bellino patatino e mi piace in sacco è piccolino e anche patatino direi ma adesso ma non ho visto che compaio nel video io pensavo ci fosse solo la chat di là invece non compaio proprio anche nel video quando scrivo c'è la chat in basso a destra adesso inizio a intasarti tutto non ho capito non ho capito cosa hai detto l'importante che ho capito io cioè spavano lo spavano no ma ma c'è la chat no c'è il riquadratino della chat non fa niente è certo ma io non lo sapevo e almeno qualcuno scrive almeno qualcuno scrive l'importante lo scrivi parolacce cose varie ecco ma secondo voi ce la fa secondo voi ce la fa sto trattore piccolo a portarsi due stesse due cose qua ma spero di sì oddio già se in penna no me tocca via il classe me sa boh vediamo un po andremo se in penna tu perché a mamma davanti questo non ce l'ha all'aggancio non c'è all'aggancio niente mi tocca prendere classe via 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 non ci pensavo c'è il peso andrea su quei trattori col peso già capito già messo di default e quindi non c'è l'aggancio davanti a tu non lo sai perché non sei amante dei trattori old no ok un pochino devo dire perché no 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 lascia verde perché ti ricordo che questo video andrà su youtube sì ma va bene guarda occhio unico a quello che scrivi perché c'è cosa c'è night bot stavolta allora e chi è night bot è un auto moderatore diciamo un moderatore bot allora vabbè mica sto buttando scrivendo cose brutte no 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 non ho messo il filtro quello cioè perché c'è anche il filtro e uno può scrivere ogni tot secondi ma non l'ho messo per tanto lo scrive nessuno qua però c'è il filtro che ne so già se scrivi quella parte dell'uomo dietro dovrebbe censurarla allora mamma mamma non me se gancia manco questo davanti ma perché ma poi non so nemmeno se se può fa fiena gione in tarda autunno è mannaggia sta season e quando l'ho messa mannaggia mom e morene capre lì e pecore ok ce l'ho ce l'ho se può fa porca miseria di comprarlo devo fa fieno devo fa fieno no eh sì troppo facile se lo compravo devo fa fiena gione se no memore memore ogni tipo d'animale porca miseria avevo fatto avevo fatto tipo 700 mila balle di fieno cioè di erba e mi sono sparite tutte drogato ma non lo sapevo che la season e ti fa scomparire le balle di erba ma che senso ha drogato guarda 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 che vuole le palle di erba che drogato che c'è via riniziamo a falciare meno male che va veloce sto class è la classe sai che se fossi stato un altro t'avrei t'avrei già bannato per tutto questo questo per tutto sto spam che hai fatto hai letto sì ho letto ma ma tutto senza senso ah è un problema della mappa mi dice stefano cioè me stai a fa crete ste che dopo 12 anni ancora c'hai problemi sta mappa ok che deve essere ricaricato su youtube questo video però andrea che cacchio quando è troppo è troppo però è c'è ancora c'hai problemi no mi piace bella per carità però porco giuda porco giuda ancora c'hai problemi che cacchio raga che cacchio cacchio ma questa di terra italica che cacchio cacchietto c'è ragione andrea ma andrea o io so solo io adesso no perché sta qui sta qui in chat però stefano questo che sta scrivendo ha fatto una mappa e per chi sta vedendo il video magari su youtube andatela a vedere si chiama italia map e tanto tu muori in diretta stefano praticamente senza mai aver fatto una mappa senza avere un team senza niente ha fatto una mappa che funziona benissimo è bellina e tutto ha messo pure ha messo pure le risaglie allagabili voglio dire ok l'ha aiutato anche un po' agrigamer però voglio dire non gli è venuto il bug dell'erba non gli è venuto il bug dell'erba capito che ti voglio dire boh non lo so certe cose a me mi fanno scusate ragazzi mi sta infervorando perché ho perso un sacco di balle e mi girano le balle andrea vabbè lasciamo perde che è meglio qualcuno ha cercato di fare un comando ma non esiste no non ho messo i comandi raga eh io non sono stato non sono capace una mappa brutta ma no non è brutta io ci ho fatto ci ho fatto anche se andate a vedere i primi episodi della serie italiana ci ho fatto anche il riso ci ho coltivato il riso ho sostituito la texture della colza ci ho fatto una puntatina e poi basta perché ovviamente non è che potevo sempre stare a trasferirmi da una mappa ad un'altra però ecco la mappa era molto bellina carina giocabile Nico che c'hai? che c'hai bello? ha tosse perché non fai come tutti i youtuber professionali e quando devono tossire se mutano? però tu c'hai ragione perché non faccio in tempo eh c'hai ragione quando arriva l'input è troppo tardi eh lo so lo so ma se fai in tempo la gente che c'ha l'infarto in corso fai in tempo a chiamare il 113 tu parco giura non fai in tempo a mutate per colpo delle tosse non mi fai infervorire pure tu Niki allora non sono capace non mi ricordo come si fa a mutare allora fai i comandi vocali fai muta io tanto taglio l'erba pure qua non è mio il campo Nico però me ne frego taglia voglio di è no se rega non c'è da fare Stefano tra l'altro chissà se farà una bella mappina anche per farming 19 caro Stefano tu dirai almeno fa l'uscì c'ha ragione ma tanto se come tanto sono sicuro che c'avrà lo stesso motore grafico a voglia che dicono a voglia che dicono eh sarà più bello sarà identico stella meretta sarà identico e quindi sarà identico pure Giants Editor Andre vedrai anche noi proveremo a fare una mappa sul 19 eh Andre che dici noi abbiamo una pazienza soprattutto Andrea Andrea è proprio il dio il dio della pazienza esatto lo veneravano nell'antico Egitto eh con la pazienza si di sicuro dice Stefano bene bene sono scontento una bella mappina ci sta tutta comunque ragazzi ci siamo per farming 19 ormai stiamo a giugno luglio agosto settembre luglio oddio copyright eh pure tu eh vabbè manca poco comunque sappiate che manca poco perché copyright è perché era una canzone di Luca Carboni so che a voi giovinastri che a voi giovinastri Luca Carboni è sconosciuto ma noi anziani lo conosciamo eh si usa il pellet adesso ci dedicherò un po' più tempo spero vabbè pure tu ste non è che ci ha avuto tanto tempo tra scuola e cose varie ovviamente quando uno va a scuola o lavora il tempo non è facile trovarlo sentite sentite il nostro sentite il nostro Nicola che ad esempio è distrutto perché sta studiando per gli esami cioè oddio oggi è distrutto perché ha fatto festini a scuola cose del genere però insomma no era la festa dell'istituto e siamo andati ah le feste dell'istituto ma tu stai non c'hai l'esami pure tu quest'anno no Stefano mi sei più piccolo di Peru di te e che vuol dire io sono stato bocciato due volte vedi 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 che Stefano mi dà ragione a me ha detto che su Farmink 19 hanno messo gli shutter e basta praticamente hanno messo degli effetti e basta Andrea hanno detto sai chi è che fa così come la Giants la EA Sports la EA Sports ogni anno fa FIFA 17 FIFA 18 FIFA 18 tutti uguali capito cambia qualche cacchiata che ne so mette l'arbitro che spruzza con la bomboletta e basta cioè è finito lì capito aggiungono nuove modalità si capito però il gioco è quello capito io me li vedo perché non cambia niente ma il gioco è quello andate sul canale ma io so così i sviluppatori anche quelli della Giants dicono anche aumentiamo come cavolo si chiama quella dei bot che sono più intelligenti e li facciamo più invece non è vero sì come l'operai come l'operai di Farmink di Farmink questo qua dice sono più intelligenti spero che sul 19 madonna perché si incastrano ovunque quegli operai esatto va bene che non sono fatti per le mappe coi campi tutti strani sono fatti per i campi quadrati ok ma pure lì non è che lavorano bene ragazzi non vi pensate che lavorano proprio ma poi volete mettere un cacchio di script che c'è pure su Farmink per telefono cioè su Farmink per telefono c'è lo script che se tu vuoi mandare un operai a vendere il raccolto ce va qui non puoi mandare un operai a vendere il raccolto cioè ma ti rendi conto assurdo e pure lo pago assurdo guarda assurdo si vedrai che sul 19 lo metteranno perché se l'ha messo su un telefono magari Stefano scrive sto per fare la stessa altra fine non so se intende te penso te Nicola ha già mandato un messaggio importante a chi studia ha detto studiate mi sembra mi sembra un messaggio gli basterà tutta steppa quando vado dal dietologo e mi dice mangia di meno gli basterà tutta steppa alle pecore per l'inverno no come no sono 10 pecore beh dici ce ne ho 200 madonna ecco l'inverno non mi fanno più nemmeno la lana mangiene e basta raga comunque sta season è antiproduttiva proprio è antiproduttiva cioè fa solo danni solo danni fa solo danni chi si sente oh c'è Peru 909 75 49 42 7 42 42 79 perché dovete sapere che Peru ha un codice a barra a posto del nick io non so perché io non so perché Peru sul mio canale io non gli ho dato niente c'ha la corona perché cacchio Peru c'ha la corona sul mio canale non lo so non lo so so cose strade però è arrivato Peru 48 39 7 5 6 9 3 4 8 7 5 6 4 3 8 9 7 5 6 4 8 7 9 6 3 4 8 9 l'ha letto tutto ma Stefano è forte ce la fa certe risate su TS ragazzi che non ve lo immaginate se volete seguire Stefano seguitelo anche sulle live di Lelex 89 ragazzi spammo spammo il mio amico Lele se vuoi mangiare una mela vai a comprarla spammo il supermercato no è bello che un canale più piccolo spamma quello più grande capito è certo fa visual qua 5 5 spettatori numeri alti oh babba senti senti la risata uccidetemi ah perché ha twitch prime cioè chi ha twitch prime viene sul mio canale e ha corona no a cosa non si capisce perché perché ma è moderatore no cioè twitch time ti fa moderatore sul canale di robinmail sappi l'unico ma se non c'è i soldi per offrire il gelato la tipa vuoi che mi faccio twitch prime chi tu io ah ok non c'è praticamente il gioco il gioco vuole che io muoia eh sì e tutti i giochi cioè tendono a fare quella andrea no praticamente non mi è stata più cassa col cibo c'è la cannata pesca fatti la cannata pesca su raft ti devi fare scusate c'è Andrea che sta a giocare raft per chi si collega adesso e dice ma che cazzo sta a dire Andrea eh niente sta a giocare raft che tra l'altro porteremo in multiplayer ve lo ricordo lo porteremo in multiplayer chi vuole giocare con me mi iscriva qui mi iscriva a youtube mi iscriva su facebook mi iscriva su twitch mi iscriva eh su discord mi iscriva l'importante che mi iscriva dove sto andando dove sto andando non conosco la mappa non conosco la mappa lo ammetto non conosco la mappa ci ho giocato 5 volte e ho fatto 5 video quindi ma c'è una mappa che conosci? no quella di default che è quella che ho giocato più di tutti ma fondamentalmente perché noi giocatori di farming non finiamo mai una carriera su una mappa cioè cambiamo mappe e cambiamo carriere di di seguito capito? questo è un grande grande vizio che ci abbiamo ma chi è che ha fatto il verso? ho pescato un pesce ma mi dice che non ci sta il pesce che ha ah sei tu che hai fatto il verso da gallino non dire ho pescato un pesce e non ci sta no allora ranghinatore ce l'ho voltafieno compriamo un voltafieno allora fatti dire che tu hai un cazzo di problema non dico la parola lì stavo su youtube cioè twitch ma anche youtube allora ma ti dice anche il numero di spettatori quanti ce ne sono? si l'ho messo io l'ho messo io carino eh tra poco tu uscirai 4 perché sei uscito sei cattivissimo sei una persona perché adesso no perché segna che ce ne sono 4 adesso ah beh qualcuno è uscito qualcuno è uscito eh peccato che non posso fare il sub ha scritto peru allora il sub peru lo puoi fare da me lo potete fare quando raggiungerò 50 iscritti e potrò diventare un affiliato di twitch su 1400 iscritti su youtube pensavo di riuscire a fare i 50 iscritti e invece e invece sono stato troppo ottimista andrea un commento anzi no 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 non fa commenti è meglio di no lascia beh oh senti ma che questo col catarro oh maestro in live no 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 guarda che il finale l'ho mutato sono riuscito a mutare un pezzo dai ma dai raga poi ho visto ora 50 follower si non iscritti c'è ragione stai esclusa beh praticamente per chi è interessato per chi magari se vuoi aprire un canale twitch per diventare affiliato e quindi puoi far abbonare la gente al tuo canale servono 50 follow e praticamente una media di 3 spettatori a live ma come vedete ragazzi i 3 spettatori a live si fanno tranquillamente basta avere un po' te e io Andrea esatto basta avere un po' di amici che ti vengono come sta a fa Stefano come sta a fa Andrea come sta a fa Nicola e Peru cioè non è che state qui perché non è che state qui perché non è che non è interessato capite tanto farming ma perché mi è stata a fa compagnia a me quindi ma questo io gioco a Raft vabbè per dire comunque si trovano insomma non è quello il problema so i 50 follower che so per morire che so difficili perché comunque Twitch se YouTube non aiuta i canali piccoli Twitch ancora meno quindi è questa la cosa un po' però vabbè che dobbiamo fare che dobbiamo fare voltiamo il fieno caro Stefanicchio e non ci pensiamo più bene ma non benissimo bene ma non benissimo ai ai dice dice Stefano che è successo Stefani che hai fatto? faccio un figlio ai ai ah ma non la conoscono i ragazzi d'oggi Emilio ai 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 se faccio un figlio non lo conosciamo allora ok da oggi in poi l'hashtag sarà da oggi l'hashtag sarà ai 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 se faccio un figlio ai 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 lo chiama Emilio giusto? giusto Andrea io lo chiamerei Jonathan mio figlio ma che cavolo ma Jonathan sembra sembra un documentario che ne so su Italia 1 Jonathan ma che è no ma 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 sono dici te sono dici te scusate ragazzi mi muto un attimo è il bello della diretta devo fare una telefonata io guardo Roby giocare con l'erba allora intratteno io la live devo intrattenere io le live perché Roberto non c'è più quindi allora Roberto sta girando l'erba perché è molto importante girare l'erba perché se la lascia sempre girata da una parte poi puzza e se puzza le piccole non la mangiano e muoiono perché se non mangiano e muoiono e niente però allora questa erba qui è anche molto particolare perché è erba italiana viene direttamente dai campi italiani per l'appunto è erba italiana e le pecore la preferiscono molto di più a quella tedesca perché quella tedesca no praticamente ci fa un po' più freddo poi bevono tanta birra quindi non gli danno da bere l'acqua gli danno da bere la birra un po' di wuster capirai che erba può venire fuori e insomma quindi dobbiamo dargli l'erba italiana mi raccomando l'erba italiana perché sennò le mucche muovi e niente hai finito di cagate o devi continuare dovevo intrattenere o me devi far saltare sto video pure pure stavolta ma scusa una cosa allora tu sei dovuto andare via no e ci sarebbe stato un buco di 30 secondi capito non è che nel buco ci dobbiamo mettere le cagate dentro il buco capito ti voglio dire ma che cagate ho spiegato perché le pecore mangiano l'erba italiana non quella tedesca che pessima persona che sei ma che pecore allora io ti ho fatto un piacere ti ho intrattenuto la live e tu mi dici che sei una pessima persona grazie ragazzi non prendete mai esempio dalle parole di Nicola a parte il fatto che è fieno ma che erba è fieno ma per ora è ancora erba il fieno quando è secco è fieno vabbè no è erba che pensa poi l'unica cosa reale che dovevano fare con la season non l'hanno fatta ovvero che il fieno deve stare un po' sul campo prima che diventa fieno invece pure qua diventa fieno subito però vabbè che dobbiamo fare lo so che poi mi dite ah ma sei troppo esigente Robby sei troppo esigente io ti lascio dopo è facile di così però insomma non è così Nico scusa se dico troppe cose volte così però è così dimmi che è così tu come la pensi è così o non è così è impressionante la quantità di volte che riesci a fare un paragone con la tua ex in ogni situazione è vero beh però ho smesso con mia cugina quindi queste cose vanno vanno pari passo capito Robby non puoi modificare il gioco in quella maniera si c'hai ragione c'hai ragione ragazzi succedono tutte oggi campanello della porta succedono tutte oggi vai Nicola con la seconda parte di intrattenimento guarda e te li sento dopo quello che dici va bene allora abbiamo nello scorso episodio abbiamo parlato dell'erba italiana in questo episodio parleremo dei cespugli francesi allora se volete creare una mappa allora io non l'ho creata perché non sono capace però fa niente però sono molte cose sono molta teoria perché in Italia dovete sapere ragazzi che chi non è capace dà lezione esatto è così guardate che abbiamo il governo di cosa state parlando scusate ho mai lavorato di Brexit praticamente Stefano hanno detto qualcosa che io devo tagliare fammelo sapere che tu sei una persona seria io volevo parlare dei cespugli francesi questa volta giuro che se non posso ricaricare questa live prossima live la fate con una patata in bocca no no perché ti volevo spiegare praticamente nelle mappe tu vuoi creare una mappa no non puoi mettere un cespuglio italiano così quelli italiani sono un pochettino un po' brutti guarda peru sono quelli francesi più romantici guarda peru come ha capito come inganna il bot guarda ha scritto azzola che azzola sono stati bravi allora mi fido avevi dubbi mi fido mi fido madonna che nebbia ti mando il bonifico ma ne ho un po' un attimo avanti vediamo un po' se a mezzogiorno esce fuori un po' di sole qua se vede una mazza è robin a 6 di sera a mezzogiorno ne devi aspettare oh se l'avessi fatto prima era meglio finalmente finalmente è bevuto il sole nichi posso spegne pure i fari che cacchio era troppo buio troppo notte in realtà ci sarebbero ok ci sarebbero stati altri due video della terra italica pronti cioè avevo trebbiato i cereali avevo trebbiato no scusate avevo trebbiato sia il mais che la soia ma non me va non c'ho tempo dei dettagli raga non si è posta dietro a 300.000 video mi sono reso conto ho aperto troppe serie proprio come mi aveva detto il mio amico peru 909754289759 no 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 aspetta ce l'ho scritto il nome se vuoi te lo ritengo ma perché peru è saggio anzi lo faccio dire con quel traduttore sii allora peru dice mi ha bannato what at f sai come finisce ah ok what at f senti come c'ha tutti i suoi modi di di dire parolacce ma non è come prima il numero pensate nico non è il numero no nico te prego non lo legge tutto però se no stiamo qui fino a domani nico lo leggo io lo legge google traduttore aspettate no aspetta questo è l'inglese ma perché c'è il traduttore in inglese manco peru farebbe una cosa così aspetta se no come fa a fare il compito in inglese 9756 9348 756 438 quello che dice le fermate a treni italia il treno scrivi qualcosa scrivilo scrivilo faglielo di scrivere faglielo di siamo arrivati ciao peru peru se ne va l'avete cacciato peru se ne va sapete che peru peru si offende facilmente perché dovete offendere peru peru chi ti ho offeso dimmi no nessuno però che ne sai pure pure l'ex non le offendi eppure se incavolano ancora no era per dire per puntualizzare ma sì ma ci mancherebbe insomma che vada a pensare male in arrivo il treno in direzione perulandia al binario perché perulandia è bellissimo ma in questo gioco passi la vita a bere e a mangiare e basta ma quello che faccio anch'io peru se ne è andato peru se ne è andato e non ritorna più e non ritorna più ma qui c'è un po' di dilupo io direi che è meglio passare qua dilupo? il dilupo il dilupo ho fatto fieno o comunque dai su non ci potremmo lamentare abbiamo avuto la media del 3 l'abbiamo superata pure oggi no andrei mi sembra alla grande fantastico Nightbot si sta spammando dici iscrivetevi al mio canale ma che vuoi? eh l'ho messo io ah l'ho messo io cosa faccio? so dei comandi che praticamente ti puoi mettere aspetta allora faccio anche io il comando io iscrivetevi al mio canale no te banna ho messo ho messo nessuna pietà coi link allora non metto un link metto uno Zelda non l'ho capita però sei così simpatico che posso far finta davvero capito il protagonista di The Legend of Zelda link uh un grande videogioco che io però non ho mai giocato e quindi è per quello che non ho capito la battuta ma voi che siete intelligenti no? si dimmi dici no o meglio tu Robby che hai giocato a Raft ecco come mi piaci meglio come si fanno le reti le reti? con i ragni non ce l'hai di default mi sa che le devi sbloccare con i progetti quelle cose lì mi sa o con la tavola Stefano che ha scritto iscrivetevi al pene ah no no tu Nicola sei arrivato sei arrivato nella mia fase quando non lo dico più però io un tempo per ingannare l'algoritmo di Youtube dicevo pane e quindi scritto come ha scritto lui vedi pane perché se invece dici pane e e funziona ha sempre funzionato l'algoritmo di Youtube vedi oggi nel live su come ingannare l'algoritmo di Youtube esatto esatto oggi episodio sulle manovre inutili di Roberto che poi guardate come spamma Nightbot e poi clicchi sopra il link e il link ovviamente non funziona quindi quindi è vero perché non funziona perché non li permette Twitch e il link e quindi però uno che è interessato fa copia e colla ma dovresti trovare io l'ho appena fatto ma dovresti mettere proprio le tette in webcam perché uno faccia una roba del genere non è questo il problema se le mette un maschio non è molto bello no ma anche se io ce l'ho non so male le mie ho una bella terza insomma non è il caso infatti mi dicono sempre Robby metti la webcam ma che giorno metto la webcam e e ci metto le tette me l'avete detto voi voglio dire oppure metti il pane eschi il pane no non posso dopo mi banna youtube perché youtube 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 è sessista sta solo con le donne capito e i maschi li banna cioè le gamer possono mettere le tettine sulle sulle webcam i maschi no non possono mettere il pane ma che discorsi perché youtube è omofobo ma che discorsi mi fate fare ma che discorsi mi fate fare salai deve andare su youtube il bello ragazzi è che noi stiamo a scherzare che stiamo tra amici capito non sapendo che questo video avrà milioni ma milioni ma che dico milioni di persone che lo ignorano esatto esatto adesso ragazzi finisco di ranghinare e salvo perché mi sono stufato chiudiamo la live che strano nome è ranghinare ranghinare è quello che sto facendo io praticamente prendi tutta l'erba dal campo tutto il fieno e lo metti e ci fai una strisciata l'ha fatta mai la strisciata con l'erba non fare queste domande grazie Nicola che sei stato zitto alla mia provocazione allora perché ammetto che è stata una provocazione poca miseria ho trovato una zattera che è grossa quanto il Titanic eh si ma affonda appena ce vai sopra affonda appena ce vai sopra non te fida allora il problema apri la vela e fai rotta verso il Titanic vai madonna adesso vedi già che ho messo gioco come potrebbe prendere tantissimo perché se avete mai visto il film Waterworld ma come no quando quello praticamente gli muore la figlia e la va a cerca che a quelli gli dice io vi troverò no ah e quello ho capito è quando vanno a fa crociera che lui sta in terza classe e lei sta in prima e lui gli fa il tipinto nudo a lei si bello mi è piaciuto è una brutta persona oh Waterworld è bellissimo non puoi distruggermi così Waterworld oh Dio Waterworld cosa di fenomenale tocca a fare una live su Twitch e una live su YouTube una live su Twitch e una live su YouTube così sponsorizziamo tutte le scene dimmi per poi fammi maniato lo squalo che te pigli un colpo ma la vita è così la vita è così purtroppo non ho trovato neanche nulla da mangiare esci da casa e te mangia lo squalo che ce vuoi fare hai visto sta alla posta fai la fila esci e te mangia lo squalo che ce vuoi fare Andre Roberto muovete a venire a fare un bel multiplayer qua eh sì mi sa che ci vado tra un po' chiudo la live e mi vado a caricare la poste pay e compriamo Raft che Raft tra l'altro era un cantante Andre mi sbaglio no quello è Raft ah giusto io che ho detto Raft stiamo lì Raft va beh comunque qui ho quasi finito di ranghinare quindi tra un po' chiudiamo puntata e live così anche la serie italiana la buttiamo su youtube no so che puoi dirla meglio questa pronuncia no no mi stavo visto trattenendo apposta ok vai di youtube in modo inglese proprio sentiti inglese ma youtube è inglese c'è il nome perché in italiano sarebbe in modo inglese in italiano sarebbe le tue tube quindi voglio dire in inglese perché in inglese youtube no ah no non è le tue va bene ragazzi o voi venitemi a trovare anche sul sul mio tubo guarda che è volgare sempre non dirlo allora non dirlo è volgare sempre perché se le persone capiscono male con le malate di mente tipo me ascolta se tu dici le mie tube suona sessista ok perché sembra una battuta sulle donne se dici il mio tubo sembra sessista lo stesso perché sembra maschilista quindi come parli parli male io l'ho sempre detto nella società moderna come parli parli male la meglio cosa è non parlare giusto andrea non parlare quindi mutismo selettivo esatto esatto fra cento anni l'evoluzione si adatterà a tutto ciò e nasceremo muti nasceremo muti perché sapremo già che come parli sbagli e quindi nasceremo muti però ciò non toglierà i blogger di scrivere cagate andrea quindi tutto sommato però vabbè cos'è contro i blogger no scusami adesso nulla nulla 80.000 seguaci nulla nulla però molti scrivono cagate non tutti molti allora io soprattutto perché i miei blog racconto quando sono al bagno ah bello ma se mi dici mi iscrivo subito che si fa ai blogger ai blogger ci si iscrive no è un sito internet un sito internet cioè io voglio seguire te nel vlog e? esatto e? tu mi segui e ogni volta che io pubblico qualcosa ti arriva la notifica bello faccio anche l'applicazione bello 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 voglio 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 iscrivermi ai vlog voglio iniziare a fare i vlog allora oh 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 andrea non mi fai questi infarti però mi piace il cartonello no 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 ho ammazzato lo squalo buoni tutti buoni tutti non si può ammazzare lo squalo non si può ammazzare lo squalo non c'è la poesia a massimo a massimo gli dai 4 forcate lui se ne va e poi ritorna no 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 lo uccidi lo uccidi come fai a ucciderlo? l'ho ucciso e con l'arpione io penso che ritorna andrea non te illude no no allora c'è un altro perché è già tornato ma lui è mo oddio mio no è più grosso il padre no 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 il mare mosso ah si c'è pure la pioggia i fulmini ci stanno ste cose si chiamano si chiamano effetti grafici li hanno inventati da un po' nei videogiochi li hanno messi dentro ma qui la sbrattazione è assicurata allora intanto io voglio mentre che sto chiudendo la poesia di Stefano vai viva Robimello a cui piace il cammello con le patate dolci ma amare al sapore no 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 oh mio dio chi è che dopo ritorna eh c'è un po' di un po' di c'è un po' squalo no c'è un ah si lo squalo vedi Stefano ma tu ce l'hai raft se ce l'hai giochiamo il multiplayer allora non ci puoi in inglese ti voglio inglese no potarsi pure che Stefano lo sa perché segue un regalo che ci gioca capito no roberto non puoi capire cosa ho dimostro pure a morire fame fermi tutti e va a mangiare in dispensa avrai qualcosa porca miseria pensavo che eri seria io metto carne di squalo aspetta aspetta devo dire una cosa Nicola Nicola dimmi che non esiste una canzone dove c'è la rima porca miseria pensavo che eri seria si esiste perché perché è troppo stupida come rima di chi è ma no non è un cantante era quello che aveva fatto era anche diventato virale trash no quello che faceva porca no cavolo devo trovarlo ok odio ufficialmente questo gioco ah ok Stefano non c'è il gioco ma lui sa tutto di tutto no era pensavo eri seria mannaggia la miseria no 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 i cosi i mortacci non ha copyright questa non me frega non la mette chi l'ha deciso tu che non c'ha copyright l'ho capito io non c'è gli A era una cosa trash l'ha pubblicata chiunque è uguale uguale non la mette andatelo a vedere ragazzi se volete sapere che cos'è andate a vedere scrivete oh mio dio eh no perché no perché non posso tagliarmi cose per caso esce fuori e pure questa va a oddio vorrei di una cosa come si può di venesse volgari va va persa che c'è che c'è andrea sto appena scoperto che ho appena scoperto che il mare mosso è bruttissimo il raft cioè è fatto male graficamente no no è fatto male che è fatto pure troppo bene nico perché non ti fai raft gioca 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 tutti e tre naghi en euro mamma mia naghi en euro ma uno come te grande e grosso fa tal papà gli dice papà adesso me da centomila euro mi si si ma sai quante coppini mi arrivano vabbè se però poi ti da ti da i cosi i soldini vale la pena no farsi coppare come si dice coppare quando ti menano coppare coppare dimmi bella comunque non mi danno soldi in casa io gli dici che soldi che ho è perché me li guadagno lavorando ma in questo periodo non vado perché studio quanto sei dolce mi piacciono i ragazzi dolci che si guadagnano i soldi lavorando bravo bravo Nicola un applauso a Nicola fate finta che ci sia l'applauso allora tornami in farm va tornami in farm e ci salutiamo così mandiamo via pure Stefano che poverino eh ma uccidere uccidere lo squalo rende cioè eh ti da un sacco di fame cioè nel senso ti da un sacco di cibo oh perché poi ti da le bistecche quattro bistecche di carne di squalo e ti danno più di metà di metà energia ottimo sì ma adesso io sono in mezzo alla tempesta non vedo nulla mamma mia può essere una canzone bella è vero non vedo nulla oppure una fanciulla oppure in mezzo alla tempesta sono come un pazzo io non vedo allora non ho detto niente un razzo è un razzo esatto allora spegniamo tutto ragazzi ma che c'è c'è il trattore acceso ah c'è questo qua c'è questo qua c'è questo qua aspetta finirà finisce la tempesta finirà perché hai mai rotto il cuore ah vabbè ok il cuore va bene allora no non te mando via dico almeno Stefano poverino sta qui oh mi fate dire cosa Stefano se no poverino capisce male volevo dire perché Stefano almeno non è costretto a sta qui aspetta che vado subito a mutare Nicola su Discord allora allora adesso scherzi a parte ho finito ho finito ho finito grazie a tutti quelli che l'hanno vista in diretta quindi grazie a Stefano e grazie a quelli che la vedranno dopo se me fai finì sempre con sto vittimismo sempre sto vittimismo io 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 fammi finì grazie anche a quelli che la vedranno dopo grazie 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 e grazie anche a quelli che non la vedranno per niente anche a quelli che non la vedranno per niente amo tutti incondizionatamente ma amo di più Andrea e Nicola eh senti che bella cosa hai t'ho fatto Nicola come hai detto Nicola guarda hai sentito che ha detto l'amore non è corrisposto vabbè Stefano io ti aspetto alle altre live su Twitch nel pomeriggio tanto io le faccio se vuoi passare un po' di tempo e fatturisate sei sempre invitato ovviamente sul mio Discord Stefano studia che poi ti boccano anche te magari è colpa di Robby Mello tu va dal professore di è colpa di Robby Mello e niente via noi ci vediamo alla prossima live sempre qui su Twitch e per tutti quelli che la vedranno su Youtube venite su Twitch dovete da venire su Twitch diglielo Nico diglielo chiudo la live con te che aspetta aspetta che poi poi chiudo ok aspetta vai che ho propri comandi di OBS vai venite su Twitch ragazzi si ma deve essere un po' più convincente ragazzi tutti su Twitch perché su Twitch succedono tante cose meravigliose andremo sempre in live a divertirci a spaccare tutto potrete comparire in video scrivendo potete donare per supportare il canale e diventare famosi grazie ci vediamo in una prossima live questo è un finale polco giuda questo è un finale vabbè niente via dai al prossimo video metto pure la sigletta finale mi sa ok ciao ciao ciao